Buonasera sono qui ad Agazzi Summer Festival e sto aspettando l'inizio di questa fantastica serata Nel frattempo guardate un po' dove mi trovo Guardate, questi sono i giochi per i bambini Poi, 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 poi Mi fanno da mangiare, c'è il mio fratello che fuma Qua c'è un po' di gente E ora si aspetta un po', lì c'è il canino C'è il mio bambino E ora arriva un po' di gente Guardate No, il posto è veramente, veramente bello Ora stasera gli erano proiettati dei corti Tra cui quello che si è fatto io insieme a Daniele Bonarini, Michele Squillace e Francesco Faralli E ne vedremo delle belle Bene, ci si vede tra un po', ciao a dopo Ciao 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 Grazie a tutti.